Allora, Varvara, scontro diretto perso, pazienza, e adesso che si fa? Si vince, spero, c'è farina che disturba, rimane più duce sempre nel vostro gruppo? Sì, abbiamo vedo solo troppo sottoporte, quindi pazienza, lo siamo tantissimi Hai emozionato, c'era la fidanzata Cosa avete sbagliato? Ma non lo so, a tirare, abbiamo sempre fuori, primo io Mi manca la mira sottoposta Esatto Ok, il migliore in campo dei tuoi? Frilli, Frilli Vitti, Torregrossa, più bello Ho capito Ciao Vitti Ok Angelo, ti ringrazio E un bacio anche alla mia ragazza, Frilli Ok, ciao